Un importante appuntamento arricchisce la programmazione della rete Rai dedicata ai ragazzi Rai Gould raccontare le tante discipline sportive con le voci dei giovani protagonisti. A partire da domani venerdì 11 gennaio, torna la nuova edizione di Sport Stories. Ogni venerdì, alle ore 16,25 saranno accesi i riflettori sui giovani campioni dello sport italiano in replica il martedì, sempre alle ore 16,25 di discipline sportive estive e invernali. La prima stagione del formato originale Rai ha ottenuto due riconoscimenti importanti il premio Arco di Traiano 2018 Stregarti a Benevento e il premio Daniele Radaeli Sport e Solidarity. Assegnato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport durante lo Sport Movise TV 2018 36 gradi Milano International Fix Fest.Sport Stories, che ha ottenuto il patrocinio del CONI, è l'unico programma TV che presenta le storie vere dei giovani atleti ragazzi e ragazze tra 13 e 17 anni che hanno scelto di mettersi in gioco per la passione verso una disciplina sportiva, conciliando gare e allenamenti con le esigenze della scuola, della famiglia, delle amicizie. Punto protagonista della prima puntata della nuova stagione è Francesco Faraglia, atleta di pallanuoto della AS Roma Nuoto. Francesco, 17 anni, vive a Roma e ha partecipato nel 2018 alle finali nazionali Under-17, alle finali nazionali Under-20, ai play-off di Serie A2 con promozione in Serie A1 e al campionato mondiale con la nazionale Under-18. Telecamere accese sulle emozioni e sulle tecniche, sui gesti atletici e sui desideri, sulle fatiche e sui pensieri di una generazione che sta affrontando la sua sfida più affascinante crescere. Il programma, che si avvale del patrocinio del CONI e la collaborazione delle federazioni sportive italiane, è stato pensato e realizzato per rispondere alle aspettative e alle aspirazioni del pubblico di Raigul. Sport Stories presenta i giovani atleti lasciando a loro la parola, con il racconto delle discipline praticate, con un linguaggio fresco e ricco di grafica, con rimandi alla riconoscibile iconografia dei principali social network, all'interno di una più lineare costruzione narrativa fondata sull'intervista dentro un docu-reality. Ogni puntata si compone di 5 momenti, 5 stories, che affrontano le diverse facce dello sport, il talento, la sfida, la passione, il gesto e il sacrificio. A questi si aggiunge una sesta parola, diversa per ciascun protagonista e che diventerà un valore extra e che sarà rilanciato sul sito web e sui social network di Raigul. Sport Stories è un programma di Federico Taddia, scritto con Giovanna Carboni e con la regia di Marco Lorenzo Maiello. Produttore esecutivo Cristina Cuzzupoli. Coordinamento Lorenzo Di Diego. Appuntamento dunque da domani pomeriggio alle ore 1625 su Raigul.